e ciao a tutti ragazzi e ben tornati sul mio canale oggi come avrete detto dal titolo e come vedete da questa immagine ahimè ci sono cascato di nuovo e abbiamo preso un altro etb però stavolta di destino splendente dato che ho visto che le due tine erano andate bene e ho detto vabbè dai proviamo e come vedete c'è anche questo che mi regalo nella nota catena di videogiochi e mi hanno regalato tutto anche queste tre che adesso vi faccio vedere velocemente queste e poi andiamo subito a spacchettare i pacchetti allora ragazzi vi faccio vedere subito queste carte qua che lascio però stavolta imbustate che magari avranno valore anche perché non ricordo in realtà se molte di queste le avevo già me ne avevano già date e le avevo già aperte quindi queste per ora le lascerò così poi ripeto prima o poi vi farò vedere l'album con tutte le carte rare che ho adesso vi faccio vedere l'altro facendolo l'apertura perché dovrebbero essere tre mi sembra di aver visto nonostante mi hanno detto che era solo una carta ok ragazzi ecco qui con le carte giganti che erano in omaggio nella nota catena per i dovrebbero essere 25 anni di pokemon come vedete infatti sono tre quindi se vi dicono no c'è solo una carta state attenti perché in realtà ci sono dentro tutte e tre come vedete qua c'è gluchi o gluchei gluchi però questa carta qui come potete vedere tutte le sue cose molto carino il simbolino qua poi abbiamo qua scorbani o scorbunni dipende come la gente lo vuole chiamare e poi come ultimo sobol o soble ripeto sempre con la gente proprio da dare e queste sono le carte promo edizione speciale 25 anni di pokemon erano in omaggio cosa ben gradita adesso andiamo a vedere nel dettaglio le tb ok ragazzi eccoci qui con le tb o per meglio dire set allenatore fuori classe questa è la scatola di destino splendente come vedete con l'ivi super mega ciccio zau questa è la parte superiore qua di lato e qua di lato non c'è nulla e qua la parte inferiore e qua l'elenco con la dicitura e tutto quanto che potete vedere con anche la carta speciale di ivi ma penso che lo sapete meglio di me di questo etb ovviamente nello sbustare facciamo tutto in diretta questo magari lo lasciamo direttamente qua in bella mostra qui abbiamo una solita sempre e solita guida ripetiamo interessa sì e no e dentro lo scatolo magico abbiamo le nostre buste il librettino e tutto quanto e ragazzi ovviamente noi adesso andremo a aprire le nostre bustine ragazzi prima di passare alle bustine direi quindi una piccola nota per i proteggi carte con sopra ivi e ovviamente la carta speciale di ivi e vi mostro subito questa andiamo ad aprirla e la metteremo poi lì esposta ma per carità qua non c'è il charizard come in futuri campioni però almeno questo giustamente manca ancora è abbastanza sul ruvidino questo ivi v max bellino non pensavo in realtà fosse con la full art ruvida però buona adesso andiamo subito con le bustine che ho già visto stavolta sono 10 ok eccoci qui con la prima busta vediamo subito che sarà una busta fortunata vedo che però sembrerebbe al contrario rispetto le altre volte solitamente non dovrebbe essere così vediamo subito con il trick non proviamo a toccacciare vediamo subito ragazzi cosa vi ho trovato queste qua spainerac buisel rovlet tre pinches gnome energia allenatore asciugamano luxio uh 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 la la ragazzi una v shiny dato che qualcuno mette un po dietro l'altra volta diciamo bello rilla boom questo teoricamente non l'abbiamo trovato l'altra volta quindi una nuova carta nuova che non abbiamo trovato ancora e il solito uisi in questo in realtà l'aveva già trovato questo buono lo faccio da vedere un attimino molto bellino andiamo adesso con le prossime ok primo pacchetto è nato subito alla grande con il secondo ma non sono tutti al contrario se non ricordo male non dovrebbero essere così però magari portano fortuna andiamo subito sempre con il solito trick vorrei evitare di toccacciare vediamo abbiamo buisel coffing non so mai se voi volete sentire i nomi però dai stavolta facciamo shinx gruchi che è quella carta gigante che abbiamo di lì abbiamo tra pinche energia cramorant puochi spada rovina uh c'è qualcosa in realtà pensavo fosse questa quella bella che invece è un morpego ma invece abbiamo anche oh morpego morpego vi anche questo manca l'alterego di pikachu bellino lo mettiamo anche qui qua questa qui qua questa sono un po male però almeno non vi dico l'orario in cui sto registrando e adesso andiamo giustamente con il prossimo pacchettino qua lo facciamo senza taglio questo è il terzo pacchetto vediamo se anche questo risulta al contrario che magari qualcuno saprà dirmi in realtà è normale stavolta che sono così io ricordo che solitamente non abbiamo la carta davanti quando la apri da dietro ma dovresti avere il codice mi sa che qua non c'è nulla ahimè ho cacciato per sbaglio abbiamo shinx koffing orsi gruchi morpego di nuovo energia spada rovinata ahimè sto già vedendo un po dietro ed è coso che speravo di trovare in realtà la team che l'altra volta non abbiamo fatto poi abbiamo daltrix invece sì abbiamo una baby shiny centi scorso questa manca buona 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 quindi qualcosa che questo pacchetto e zarude quindi anche questa la possiamo intanto ragazzi mettere qua insieme agli altri e andiamo avanti eccoci qua partiamo subito al massimo con questo altro pacchetto che ripeto pensiamo tutti al contrario poi magari sbaglierò sempre io però non li ricordavo così le carte appena sbustato il pacchetto vabbè ragazzi ormai qua andiamo abbastanza veloci le carte comuni ormai sono sempre quelle partiamo che non l'avevo ancora trovato vabbè le energie che cambiano anche questo forza l'intorno l'avevamo ancora trovato questo l'avevamo già trovato roto non l'avevamo ancora trovato un'altra baby shiny ragazzi questa neanche non avevo quindi a tenna e dietro niente in mega però anche a tenna quindi per adesso 4 bustina 4 trovate lo faccio vedere meglio magari senza queste qua ragazzi se volete vederlo bello di queste carte qua ripeto almeno qualcosa di speciale c'è sempre e sono apprezzate le baby shiny so che ci sono anche le amazing ma non ancora non le ho trovate gli amazing e andiamo adesso con l'altro ok andiamo subitissimo anche con questo però adesso 4 su 4 quindi non male ovvio che è sempre meglio avere una v max o una v giustamente o magari sarebbe bello trovare le gold gold black però ci può avere tutto dalla vita abbiamo ivi che già si era spoilerato nell'apertura del pacchetto morfego ciuto nikito adesso sono anche un po diverse dalle comuni almeno quelle sempre state uguali almeno un po di differenza guardiamo qua acqua andato male primo pacchetto dove ahimè non abbiamo trovato nulla ma andiamo subito col prossimo ok ragazzi vediamo se ci porterà un po fortuna yamma in prima posizione portaci fortuna trick magico trick magico trick magicissimo vediamo 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 sempre le solite carte comuni andiamo un po con l'attesa andiamo un po con l'attesa ballino questo ancora non l'avevamo trovato la carta allenatore vol canyon non male bello queste sono le cose che però ti fanno incazzare scusate la parola però carta brillo ciccose vol canyon e carta non mai vol canyon non mi potevi dare un'altra carta almeno sempre due carte uguali è un po un controsenso peggio di fifa volte poco veramente vabbè ragazzi andiamo da con l'altro ed eccoci qui ragazzi con il quatt'ultimo pacchettino anche se non mi ispira però ho visto adesso riguardando i pacchetti che ne gli ultimi tre sono tutti i charizard quindi sia mai charizard porti charizard o comunque porti carte buone dato che comunque non è che abbiamo trovato chissà che cosa speriamo di trovare altro sono state molto più fortunati rettini in questo momento vediamo subito vedo già in è qualcosa che mi sono già spoilerato mi sembra una di max una prima scoccano o addirittura un allenatore forse voi avete visto meglio di me vedo che non stavo riprendendo bene uuuh arco cane questo mi sembra che l'hanno già trovato però mi pare di aver visto qualcosa di buono sotto ma questa mi sembra che già l'hanno trovata l'altra volta ragazzi ogni tanto vedo che inquadra l'altra parte scusatemi guardiamo dietro se ho ragione sì 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 allenatore rose rose pancetta grandi questi sono i pacchetti caccetto pokemon questi sono i pacchetti vedi caccetto due carte va bene due carte top così va bene così da va bene va bene a trovare queste cose mettiamone insieme agli altri e andiamo con gli ultimi tre pacchetti tutti di charizard eccoci qui ragazzi con il terzo ultimo pacchetto il primo dei tre tarizard vediamo se vediamo se questo riusciamo a non romperlo vediamo 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 sotto un po la collettina uuuh buono 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 non è stato rovinato quindi lo metteremo da parte per mantenerlo poi dopo rivendiamo pacchetti legali no sto scherzando però sono belle tenere gli art book gli artwork e quant'altro delle bustine giustamente a riaprire le bustine che giustamente trovi qualcosa però tenete magari l'art work vediamo un po cosa troviamo invece in queste cartine vediamo bello trovare no no mi sembra di averlo trovato spain a rack però invece no ma qua mi sa nulla bellino questo non l'avevamo ancora trovato e ricerca accademica neanche questo allenatore però è andata male vediamo gli ultimi due pacchettini eccoci qui penultimo charizard portarei fortuna charizard guarda la telecamera dirlo dirlo che adesso troviamo il mondo dirlo dirlo che troviamo il mondo con te e con tuo fratello troviamo il mondo e troviamo anche te andiamo subito troviamo per mantenere il pacchetto troviamo anche se a volte non so se in realtà se mantenendo il pacchetto potremmo essere fortunati o sfortunati a questo punto non lo so però si è mantenuto anche questo quindi lo teniamo guardate not bad not bad not bad vediamo subito via il codicino facciamo il nostro tricchettino with the sphere poke dai ragazzi dai ragazzi mani al cielo e speriamo speriamo di trovare qualcosa queste le facciamo andare avanti ovviamente mi sembra di aver intravisto qualcosa di colorato anzi senza mi sembra ma abbiamo qualcosa di colorato una baby shine intanto già questa acto zolt neanche questa avevamo buona bellina not bad e e sotto sotto cosa abbiamo ragazzi cosa abbiamo una b e una b u del miso e non ve l'ho fatta vedere scusate l'ho vista un attimino io sopra anche questa mancava mia parte la pecorella per adesso non male mettiamola qui ammassata insieme alle altre dopo ve le farò vedere tutte insieme e andiamo ragazzi come vedete con l'ultimo c'è risardino proviamo a mantenere anche questo pacchetto mi farò vedere che in questo video volte ci sono i tagli quando prendo un pacchetto a volte però sono i miei pack opening speciali ai a questo si è rotto ai a questo si è rotto porterà amici a sfortuna porterà sfortuna ragazzi potrà portare sfortuna o porterà fortuna codicino lo mettiamo via proviamo trick 4 proviamo io non le ho toccate ancora non le ho toccate mai in pratica quindi non so mai se c'è qualcosa di buono o no andiamo subito con le carte standard questo non l'avevamo ancora trovato carino elefantino wizard mi sembra che però era in un'altra posizione no era l'evoluzione scusatemi abbiamo l'asciugamano no non c'è nulla no 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 ragazzi ahimè in questo ultimo pacchettino non c'era nulla abbiamo trovato quelle carte speravo nel charizard con l'ultimo charizard ora ragazzi facciamo un bel recap e ci possiamo finalmente salutare finalmente per voi ma dai sto scherzando spero che vi abbia fatto piacere a questo piccolo pacco ping ok ragazzi come vi dicevo siamo qui con questo recap delle carte che abbiamo trovato sono ben nove se consideriamo anche lì vi che già vi ho fatto vedere ora ve le faccio vedere un attimino di nuovo da vicino iniziamo con rilaboom v shiny che dovrebbe essere shiny con le lucine stelline molto bellino abbiamo subito poi con more peco v fainto fainto pikachu speriamo poi trovare l'ultima team che ci mancava in modo tale da averle fatte tutte prendiamo con a tenna la baby shiny e ripeto ragazzi per questo tipo direi che mi sento soddisfatto andiamo con arctozolt sempre baby shiny prendiamo con centi scorch baby shiny questo fosse il più bello tra le baby shiny che abbiamo trovato come tipologia di poco non ho presente quale sia perché di me livello pokemon sono rimasto abbastanza indietro a parte aveva le più importanti e quant'altro però molto bellino lui poi abbiamo del mise v anche questo mi ricorda in realtà più un boss di dark soul vi dico la verità o mostri del genere però bellina bella anche la bici ho fatto caso adesso gli ha dato molto bellina poi abbiamo il primo allenatore trovato di questa serie che rose full art bello po di panzettina però ci sta quarantena lockdown fai bene allo mangia mangia continua così e poi abbiamo l'ultimo che però ricordo se non ricordo male ripeto è un doppione quindi magari o qualcuno lo vuoi scambiare ne ho anche un po di carte a scambiare quindi ragazzi contattatemi commentini sotto scambiamo delle carte nessun problema poi ripeto vi farò vedere anche il mio album che non sarà affatto male abbiamo un bel po di carte e ve le mostrerò beh che dire ragazzi spero che questo video di sbustamento vi sia piaciuto di questo etb io come al solito vi ricordo di lasciare un bel mi piace commento se anche vi interessa a questo video in modo tale da comunque far arrivare questo video più persone possibili e quindi condividerlo ricordo ancora di iscrivervi se non l'avete fatto e noi come al solito ci vediamo in un prossimo video ciao ciao